Buongiorno, sono Fabio Guidetti, responsabile IT di Paini SPR Lunetterie. Paini SPR Lunetterie è un'azienda artigiana nata nel 54, adesso conta di 390 dipendenti e circa 85 milioni di euro di fatturato. Abbiamo clienti importanti, i quali Ikea, Castorama, Leroy Merlin e grandi gruppi della GDO. Per supportarci con questi grandi numeri abbiamo bisogno di un nuovo processo di digitalizzazione. Per questo ci siamo rivolti a un partner che ci ha seguito dieci anni fa nella soluzione Dynamics NAV. Adesso stiamo passando alla soluzione Dynamics NAV 2015. Per ottenere questo risultato Paini ha deciso di affidarsi ad un partner alterna che è un partner Microsoft che si muove non solo sulle applicazioni Dynamics ma in generale sulla tecnologia Microsoft. Questo ha consentito a Paini di poter gestire i propri processi di back office, di front office, di analisi dei dati o di gestione delle relazioni con i clienti attraverso un'unica piattaforma. Avendo quindi a disposizione tutti i dati aziendali e potendo prendere decisioni di business in qualsiasi posto e tramite qualsiasi device, questo grazie alla tecnologia Microsoft che oggi è forse l'unico vendor che consente di avere questo tipo di gestione delle informazioni aziendali. Questo è quello che cerca di fare Alterna come partner di eccellenza Microsoft per i propri clienti e di declinarlo sul mercato.